Rinvenute ossa umane risalenti probabilmente al 1700 a Camerota. La scoperta nel corso di alcuni lavori per riqualificare Piazza Castello. Mentre infatti gli operai stavano scavando, sono state rinvenute delle ossa umane. Da una prima stima, svolta dagli esperti, sarebbero risalenti al 1700. Adesso, ovviamente, in questi giorni saranno svolte analisi approfondite. Potrebbe rappresentare una scoperta di grande rilevanza, non solo per Camerota. Grazie a tutti.